26 febbraio 2020, mercoledì teleceneri. Oggi inizia la quaresima, i 40 giorni di Gesù nel deserto e io scopro di avere un problema, un nodulo maligno alla tiroide, un tumore. A volte succedono cose che sono solo fatti, ma a volte questi fatti sono storie. Una telefonata mi cambia di nuovo la vita. Una mia amica, Alessia, mi dice che sta male. Ho un linfoma, Edie. Riprendo tutto, racconto tutto, senza pudore. Nel frattempo inizia un nuovo tempo, quello del coronavirus, che fa da sfondo a tutta questa storia. Ho sempre paura di morire e di vivere, inizia un nuovo tempo. Ho sempre paura di vivere. Ho sempre paura di vivere.